Non sarà necessario stilare una graduatoria per beneficiare dei contributi stanziati dalla Regione Marche a difesa del patrimonio zootecnico sui danni causati dai lupi. Tutte le 153 domande pervenute, se ammissibili dopo l'istruttoria, saranno finanziate. A fronte dei 3 milioni disponibili sono arrivate richieste per 1,6 milioni di euro. La somma rimanente, una volta liquidate le richieste in regola con i requisiti del bando, verrà utilizzata per altri interventi di attenuazione del conflitto tra allevatori e lupi, lo afferma la vicepresidente Anna Casini, assessore all'agricoltura della Regione Marche. I contributi stanziati con la sottomisura 4.4 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 e autorizzati dall'Unione Europea saranno riservati alle aziende zootecniche, ovocaprine, bovine ed equine, delle aree montane e da quelle non montane ma rincomprese nel territorio protetti e che avranno la necessità di difendere il proprio bestiame dagli attacchi dei lupi animali protetti. Entro la scadenza del bando sono giunte 11 richieste dalla provincia di Pesorubino, 8 da Ancona, 88 da Macerata, 10 da Fermo e 36 da Ascoli Piceno.